il treno regionale 26 8 8 di trenitalia proveniente da mantova e diretto a verona porta nuova delle ore 6 e 26 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regionale 26 91 di trenitalia proveniente da verona porta nuova e diretto a mantova delle ore 6 e 39 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma villa franca di verona mozzecane rover bella sant'antonio mantovano annuncio ritardo il treno regionale veloce 20 81 di trenitalia delle ore 7 e 14 proveniente da verona porta nuova e diretto a parma arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti il treno regionale veloce 20 81 di trenitalia proveniente da verona porta nuova e diretto a parma delle ore 7 e 14 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma villa franca di verona mantova castellucchio piadena casal maggiore ore 7 e 14 pulomiti tu